Sono passate da poco le 17.30 quando il sostituto procuratore generale di Catania, Giuseppe Lombardo, in aula bunker al carcere Malaspina, chiede 11 anni e 4 mesi di reclusione per Antonello Montante, ex paladino dell'antimafia finito sotto processo per corruzione e associazione a delinquere, è già condannato in primo grado a 14 anni, con uno sconto di pena di poco più di 3 anni rispetto alla sentenza di primo grado per un cavillo giudiziario. In realtà la richiesta di pena è superiore a quella formulata dall'accusa in primo grado, infatti il PM Stefano Luciani chiese 10 anni di reclusione per l'imputato Montante. Conferma delle pene richieste anche per gli altri imputati di questo filone del processo. Il generale Gianfranco Ardizzone è condannato in primo grado a 3 anni, richiesta confermata e in più aggiunta la richiesta di abbassamento di grado dell'alto ufficiale come pena accessoria ai sensi del codice militare di pace. Marco De Angelis, funzionario di polizia che ha anche ammesso di essere entrato ingiustificatamente nel sistema informatico dello Stato, per lui richiesta di conferma di condanna a 4 anni di carcere, fatta salva la pena pecuniaria di 10.000 euro. Nella prima giornata di requisitoria è chiesta la conferma della pena a 6 anni e 4 mesi per l'ex capo della security di Confindustria Dego di Simone Perricone. La riduzione della pena da un anno e 4 mesi a 10 mesi e 20 giorni è stata richiesta invece per il questore Andrea Grassi. Il procuratore generale ha inoltre chiesto le attenuanti generiche per Grassi perché ha rimarcato l'accusa era estraneo al sistema Montante. Il rispetto delle regole non può ammettere zona franca, ha ribatito il procuratore generale, durante la requisitoria durata due giorni. La sentenza sarà emessa dalla Corte e presieduta da Andrea Inocchipinti, all'Atere Giovanni Battista Tona e Alessandra Giunta entro fine febbraio.